Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07 Bentornati, bentornati, erano tre mesi, forse qualcosa di meno che comunque non si recensiva un match della Juventus sul mio canale e finalmente si ritorna con il campionato ma comunque non si torna a vincere purtroppo, non si torna a vincere le ultime tre volte era andata bene con tre vittorie e stavolta invece è andata un po' malino ecco ragazzi stavolta è andata un po' più insomma ci dobbiamo regolare ancora su questo io comunque ho visto una squadra ben organizzata io ho visto una squadra ben organizzata perché comunque Allegri è uno che sa organizzare bene la squadra come la mette in campo poi è chiaro che con Allegri torna un po' la noia perché se non ha zero metti il pullman e parti in contropiede ed è una cosa che ti puoi permettere perché quando hai in squadra giocatori come Bernardeschi, Quadrado, Di Bala ti puoi permettere di ripartire in contropiede quante cazzo di volte vuoi detto proprio in maniera sincera ragazzi e quindi la squadra come era ora così ben organizzata è stata rovinata da Shesny perché diciamoci la verità è inutile parlare di blackout alla fine Allegri cosa mi aspettate che dica secondo me è totalmente inutile parlare di blackout il secondo tempo la squadra è calata ragazzi è la prima di campionato ci sta qualche controllo sbagliato qualche passaggio sbagliato la verità è che Ludinese ha preso fiducia dopo il primo gol dove la Juve è andata un po' in confusione perché comunque sul primo gol certo ci sono le golpe di Shesny ma non sono tutte colpe sue De Ligt è uscito praticamente a vuoto per andare da Pereira e si è creato una voragine e chi è stato dipensore lo sa poi l'occasione del secondo gol certo le colpe maggiori sono sempre di Shesny come dice Allegri non è una vergogna di mandare la palla in tribuna però sinceramente è anche sbagliato come sarà organizzata tu già da due passaggi prima avevi visto la squadra organizzata un po' male come era messa in campo capivi che la palla sarebbe arrivata a Bonucci e poi sarebbe arrivata a Shesny fin da quanto ce l'aveva il calcettore precedente non so se avete capito cosa sto dicendo quindi insomma gli avversari se non abbiamo capito noi figuriamoci gli avversari gli avversari sono andati subito in pressing su Shesny quasi ancora prima che Bonucci colpisse il pallone come se già sapevano la mossa che avrebbe fatto Bonucci Bonucci anche lui se lo sarebbe aspettato secondo me e ha messo Shesny in estrema difficoltà Shesny cosa ha fatto lì? una cosa che spesso gli è riuscita ovvero far rimbalzare la palla sul giocatore avversario ma stavolta non gli è riuscita bene perché l'avversario evidentemente è stato bravo in questo non mi sbagliò Kaka era e quindi è stato siglato poi il vantaggio cioè il gol del pareggio dell'Udinese quindi è avvenuto un po' rovinare da Shesny ora tornano un po' di rimorsi dovevano prendere Donnarumma io credo che Donnarumma sarebbe stato dovuto prendere Donnarumma secondo me sarebbe stato da prendere a prescindere perché è un giocatore per cui tu diai 5-10 milioni di commissioni al rai ora non si può nevitare a lui gli dai una cifra comunque sui 10 milioni l'anno anche se poi ti vai ad appesantire il Montengaggi che già con i 7 milioni di Ramsey e Rabiot con Di Bale che vuole rinnovare i 30 milioni di Ronaldo già è veramente altissimo il Montengaggi della Juventus anche De Ligt ne prende tanti quindi insomma bisogna un po' stare attenti al Montengaggi ragazzi quindi una partita rovinata forse da un certo punto di vista da questi errori di Shesny perché la Juve secondo me ha giocato bene poi c'è anche la sfiga ragazzi perché il palo di Morata il palo di Bentancur e il fuorigioco di Cristiano Ronaldo in occasione del gol del 3-2 loro che fanno due gol su papera del portiere quindi insomma ragazzi non ho visto particolari azioni dell'Udinese e sono entrati in partita secondo me con gli errori di Shesny poi c'è il caso Ronaldo secondo me ragazzi su Ronaldo c'è qualche tassala che non torna che poi lui segna di testa lo sappiamo per me lì il vero miracolo l'ha fatto chiesa con il cross che Ronaldo avesse questi stacchi di testa comunque già si sapeva non è che diventa scarso da un giorno all'altro il re dice di rimanere a Torino con questo gol ragazzi Ronaldo nei colpi di testa è fenomenale se io vi riporto a 20 minuti prima di quel colpo di testa ne ha fatto un altro che però si è mangiato un gol clamoroso perché gli è stata messa una palla fantastica e lui davanti alla porta si è praticamente mangiato un gol quindi insomma ragazzi è stata secondo me pura sfiga quella di Juve di ieri ci sono sicuramente delle situazioni da migliorare soprattutto e non nell'organizzazione difensiva forse ha sbagliato anche Allegra a mettere la difesa a tre ma la difesa a tre però la strada è senza dubbio quella giusta io ho visto che siamo ben coperti comunque in tutti i ruoli a sinistra comunque Alexandro e Pellegrini a destra Danilo e Quadrato che sono due terzini di ottima qualità che può addirittura andarci a fare un 4-4-2 come ieri che ha giocato sia Danilo che Quadrato Danilo come terzino difensore centrale nella difesa a tre oppure davanti alla difesa addirittura Danilo si è scoperto anche mediano Danilo va a coprire praticamente tutti i ruoli e li sa fare anche bene quindi si è ben coperti in tutti i ruoli nel caso e poi Quadrato lo voglio usare esterno alto lì c'ha i desciglio su quella fascia quindi secondo me è una Juve veramente ben coperta in tutti i ruoli difensori centrali forse un po' meno è l'unico ruolo dove spicca un po' diciamo il senno di poi perché ha i Bonucci Chiellini e Delict e nessuno dei tre ha garanzie fisiche e non sto scherzando ragazzi perché l'anno scorso Bonucci ha giocato 43 partite Delict 38 e Chiellini 35 quindi non c'è tanta differenza tra i tre perché sembra strano ma Chiellini lo scorso anno ha portato a casa 35 partite ragazzi che non sono pochi poi è vero alcuni non sono entrati dalla panchina eccetera però non sono pochi comunque quindi io vedo che siamo ben coperti in tutti i ruoli nel centro campo abbiamo sei nomi di cui comunque tutti e sei c'è da lavorarci abbiamo Locatelli Ramsey Arthur Rabiot McKennie e Bentancur quindi abbiamo sei giocatori comunque buoni se Bentancur deve giocare tutte le partite come quelle di ieri comunque un valore aggiunto un ottimo giocatore ogni tanto torna quella dei tempi d'oro così come Alexandro che ieri ha disputato una buona partita e fatemelo dire la Juve di Dybala anche in attacco che è un reparto sicuramente molto importante siamo iper coperti perché abbiamo giocatori come Dybala Cristiano Ronaldo Chiesa e Gianni nominati tre fantastici ci può giocare quadrato esterno alto in più ha i Kulwiseski Morata Bernardeschi quindi ragazzi abbiamo veramente una bella rosa e Caio George che quasi lo dimenticavo abbiamo anche Caio George ragazzi che è venuto e sta la quarta punta che cercava per lo abbiamo noi ora quindi veramente una buona situazione secondo il mio il mio punto di vista detto questo ragazzi il video termina qui spero che il video vi sia piaciuto se ti è piaciuto di lasciare un mi piace se non trarvi un dislike commento se siete d'accordo se siete d'accordo con me se l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale da Monospor07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi